Sì, la verità, io ho arrivato qua con il pensamento che è arrivato una squadra forte, una squadra bene, bene, la città per me non è cambiata perché è uguale a Argentina, ma la verità, io sono troppo felice qua, come mi trovo la gente, come mi puoi sentire, e questo non lo puoi dire. Dopo, io so il problema che ho qua e sono molto contentivo, con fiducia del mio compagno, del Presidente, del Ministero, e questo è qualche cosa che sono sicuro che con questa squadra possiamo fare.